Cosa c'è? Cosa c'è? Ma non so se c'è l'aria, li vuoi vedere? Cosa c'è? No, sono quelli che sono disparati, non me lo vedo Cosa c'è? Mi hai fatto Mi, mi Mi, mi Bene Eh? Voglio vedere come? 3 Eh, cazzo 2 2 Eh, perché? 1 Lo scudo vale? Lo scudo ballistico Come hai fatto tu prima, Marv Erri, vai Vai, Erri Si Vai, vai Mirà a destra e a sinistra Ma parate Non parate, ragazzi Preso 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 Sono stato preso Esci, esci, Erri Eh, giallo, no, devi guarda di luogo Ah, vedete No, vai Già Ho il fiore Preso, preso Ma non vuoi, non vuoi Preso normalmente Non vale Ma perché? Sì Allora Uno non mi hai colpito Uno non mi hai colpito Due ti ho colpito E io non vado E lei Leva 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 Parla 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 3 2 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vai, vai, aiuta! Sì! colpito colpito colpito